Oggi siamo qui con Miriam Bertoli che è consulente di marketing digitale, docente ma è soprattutto autrice del libro Web Marketing per le PMI, il libro scritto con l'obiettivo di aprire gli occhi alle piccole e medie imprese italiane sulle opportunità offerte dal digital marketing. Innanzitutto do il benvenuto a Miriam e la ringrazio per essere qui. Grazie Sara, grazie a voi per l'invito. Sono subito curiosa di scoprire qualcosa di più sul tuo libro, quindi vorrei chiederti perché lo hai scritto e a chi si rivolge, chi vorresti che lo leggesse? Allora, io Web Marketing per le PMI l'ho scritto nella prima edizione del 2011 perché era un libro che mi veniva chiesto, insomma, non mi veniva chiesto di scrivere un libro, ma i temi che poi ho portato nel libro erano frequentissime domande che ricevevo da imprenditori, da persone che incontravo, che si stavano avvicinando al digitale per una professione o chi magari lavorava da anni nel marketing e aveva però bisogno di avere un punto di ingresso in questo nuovo scenario, nuovo tra virgolette ormai, che è quello digitale. E quindi da lì è nata l'idea per questo libro, che è andato benissimo, quindi l'editore Opli poi mi ha chiesto di fare un'edizione aggiornata, naturalmente, insomma l'aggiornamento è vitale, no? Vista quanto sono vivaci poi i temi che il libro tratta e dunque nel 2015 ho pubblicato la seconda edizione di Web Marketing per le PMI. E nasce proprio dal bisogno di avere un manuale che sia, da un lato, un punto di ingresso in tutti gli strumenti digitali, perché infatti c'è un capitolo dedicato a Facebook, un capitolo a Twitter, uno all'email marketing, quindi tutti gli strumenti sono trattati, non in maniera approfondita, perché per l'approfondimento ci sono manuali meravigliosi, ci sono blog, ci sono podcast, ci sono, insomma, contenuti dedicati a come gestire al meglio una pagina Facebook, come impostare AdWords, come farlo fruttare, insomma, con i minori costi e maggior ROI. Quello che mancava era proprio, diciamo, un'infarinatura di tutti questi strumenti. In più ho inserito una parte iniziale che è di definizione della strategia, quindi la domanda classica, no? Che arriva dall'imprenditore o dal professionista e mi dice, va bene, io ho capito che ci sono tutti questi strumenti, ma per la mia impresa, per i miei obiettivi, che cosa devo fare, da dove comincio? E quindi la parte iniziale, che poi è completata da, insomma, casi di successo, quindi non solo la teoria, ma c'è anche, sono esempi di applicazione, è quella che dà anche, diciamo, le fondamenta a come impostare una buona strategia digitale. Infatti parliamo proprio delle piccole e medie imprese italiane. Qual è lo stato attuale delle piccole e medie imprese italiane? Sappiamo che in Italia la maggior parte dell'imprenditoria è costituita proprio dalle PMI. Qual è lo stato attuale e qual è il rapporto di queste imprese con il web? Se la maggior parte, credo, non abbia una presenza ben strutturata? No, assolutamente. Infatti, guarda, ci sono delle ricerche abbastanza recenti, no? Che, insomma, fotografano un paese in generale, quindi non è solo un tema delle imprese, ma è un po' un tema di tutta la popolazione e anche del tessuto naturalmente economico. La Commissione Europea ha pubblicato a fine febbraio i dati di un indice che è il DESI, che è Digital Economy and Society Index, quindi fotografa dei 28 membri, paesi membri dell'Unione Europea, qual è, diciamo, il loro stato digitale, non solo sulla parte economica, ma anche, per esempio, sulla pubblica amministrazione. E diciamo che l'Italia non è esattamente nei primi posti, anzi è fandalino di coda su tanti indicatori, o comunque, insomma, nell'ultima parte, 24esima, 25esima, su 28, su tantissimi indicatori. L'unico, diciamo, dato che poi nella ricerca emerge come saliente è una buona crescita del volume di fatturato generato dall'e-commerce, che la dice lunga anche su quelle che sono le opportunità del digitale per le piccole e medie imprese italiane. Perché, diciamo, al di là della possibilità di seguire, di gestire al meglio un mercato che è quello locale, quindi poter farsi trovare da nuovi clienti, poter vendere direttamente online, o farsi trovare online e poi vendere in un punto vendita, o, insomma, con il classico commerciale che visita potenziale impresa cliente, c'è un'opportunità grossissima che è quella di ampliare e andare all'estero. Quindi l'opportunità forte per le piccole e medie imprese rappresentate dal digitale è anche quella di aiutare l'internazionalizzazione. E quindi, insomma, mi ha fatto ben sperare il fatto che, tra tutti gli indicatori non così positivi, quello che comunque viene messo in rilievo come invece incoraggiante è proprio questa propensione all'e-commerce, al fatturato generato dall'e-commerce. C'è poi un'altra ricerca che invece arriva sempre dallo Yulm, che ogni anno pubblica una ricerca sulla social mediability delle aziende italiane, che arriva dall'osservatorio collegato al Master, Yulm, è presentata a gennaio di quest'anno. Non è, diciamo, è una ricerca che si basa su un campione appartenente ad una serie di aree merceologiche, imprese grandi, medie e piccole, quindi non è solo PMI, sono circa 700 le imprese analizzate e un terzo, il 25%, sì, quindi il 25% non ha un sito. Quindi, diciamo che un'impresa su quattro, naturalmente secondo il campione analizzato in questa ricerca, non ha ancora, dico io, un sito web. Poi non è obbligatorio per tutti, intendiamoci, avere un sito web. Per alcune imprese può essere sufficiente una pagina Facebook, per altre una buona presenza nelle schede di Google per le business locali. Dipende sempre dal tipo di impresa poi, insomma. Esatto, esatto. Però diciamo che il 25% una su quattro senza sito è abbastanza un indicatore di quello che anticipavo prima. Cioè, ci sono praterie di miglioramento possibile per le imprese italiane.